Ehi Donald, si dimmi Ancora? No, ti ho detto che non ho ancora cominciato a guardare House of Cards Ma tu non mi puoi chiamare tutti i giorni per chiedermi questa cosa Ma poi avrai il tuo bel da fare pure tu, dico io Tu piuttosto hai cominciato a guardare Breaking Bad? Cosa vuol dire? No, non lo guardo perché ci sono i messicani, scusa Oggi facciamo qualcosina di un po' più soft, diamoci un po' al gossip Ma sì dai, perché ogni tanto un po' di sano gossip non fa male a nessuno Andiamo a parlare di quelle celebrity che voi non vi immaginereste mai siano delle serie tv addicted Perché diciamolo, quando ne pensiamo alle celebrity ci vengono in mente questi grandi divi hollywoodiani Illuminati dall'alto da questa luce celestiale che li illumina come se fossero degli dei scesi in terra Ma in verità sono delle persone assolutamente normali come noi E che proprio come noi una volta arrivati a casa si mettono il pigiamino E si piazzano davanti alla tv a farsi maratone e maratone di serie tv Quindi vi dirò quali sono queste celebrità ma soprattutto quali sono le serie che tanto amano La prima di queste è Heidi Williams, la cantante di Paramore Lei è una vera serie tv addicted Adora The Big Bang Theory anche se la sua serie tv preferita è The Walking Dead Infatti pensate che ai suoi concerti indossa sempre una t-shirt con il logo della serie Ed è letteralmente impazzita quando ha avuto l'occasione di parlare al telefono con Norman Reedus Aaron Paul ha manifestato più volte il suo amore per Stranger Things ma soprattutto per la piccola protagonista Undici Infatti lui e sua moglie hanno avuto l'occasione di incontrarla e ne sono rimasti entusiasti E' stato amore a prima vista Sentimento ricambiato appieno anche dalla giovane Millie Bobby Brown L'attore infatti ha postato su Instagram varie immagini che lo immortalavano insieme alla propria famiglia E a Millie, così a proprio agio con Aaron e consorte che loro hanno espresso il desiderio di volerla adottare Sono tante le star che stanno impazzendo nell'ultimo anno proprio per Stranger Things Infatti si potrebbe fare un video a parte solo per questo E fra i tanti c'è anche Norman Reedus Lo vediamo in questa foto dove è stato proprio lui a chiedere ai ragazzi di farsi un selfie Anche a me una volta Norman Reedus mi ha visto per strada e mi ha detto Ah ma tu sei quello che fai i video per All of Seas, io gli ho detto sì E mi fa dai facciamoci una foto insieme Eccola qua Che Demi Lovato abbia una passione per le donne di potere è risaputo In politica infatti ha sostenuto fortemente Hillary Clinton Ma quando è a casa non si perde neanche un episodio di scandal Ha persino incontrato Bella B. Young ed ha postato subito una foto su Twitter scrivendo Me and the first lady Millie Grant Abbiamo quindi la prova che anche le star rimpazziscono per i loro beniamini proprio come faremo noi Drew Barrymore che da poco si è affacciata al mondo seriale Infatti lo stiamo già amando tutti quanti in Santa Clarita Diet È una vera fan sfegatata di Game of Thrones Questa serie le piace così tanto che si è fatta regalare da suo marito una bellissima maglietta con scritta Mother of Dragons Che sfoggia con orgoglio sentendosi un po' come Daenerys Justin Bieber che in quanto a serie tv ha dei gusti sicuramente migliori di quelli musicali Si scherza ovviamente Va matto per le sitcom In particolare per la madre di tutte le sitcom ovvero Friends Non è l'unica serie che segue infatti è un debole anche per i supereroi a giudicare dalla sua grande passione per Smallville Continuiamo con Lady Gaga infatti una star stravagante come lei non poteva che apprezzare la famosa serie Di Ryan Murphy American Horror Story È così innamorata di questa serie che ha persino chiesto di poter fare un cameo al suo interno E i produttori gli hanno permesso di fare la protagonista in tutta la quinta stagione Quinta stagione che poi ha fatto anche un po' cacare Ma vi ho detto di Justin Timberlake Quando Timberlake non è sul palco a cantare Can't Stop The Feeling A casa non può fare a meno di guardare la sua serie tv preferita Breaking Bad Ebbene la storia di Walter White ha stregato persino lui Pensate che una volta ha chiesto su Twitter ai suoi followers Se fosse l'unico a cui mancavano terribilmente Walter White e Jesse Pinkman Non è neanche solo in campo musicale ad apprezzare questa serie Anche Rihanna e Drake sono due fan spiegatati E continuando sempre sulla scia dei cantanti Madonna è una grandissima fan di Game of Thrones Ovviamente la regina del pop non poteva che seguire la regina delle serie tv Ed il suo personaggio preferito come potete vedere dalla foto è Daenerys Da poco Ariana Grande si è affacciata anche lei al mondo seriale Nella sua piccola parte in Scream Queens Ma già da tempo adorava le serie tv La sua preferita infatti è Gossip Girl Il suo personaggio preferito è Chuck Come potete intuire dalla foto che è stata postata dalla cantante stessa Mentre guarda in estasi il protagonista della serie Ragazzi anche per oggi è tutto Io spero come sempre che questo video vi sia piaciuto Vi invito a lasciare like e iscrivervi al canale di All of Series Se ancora non l'avete fatto Conoscete altri vips malati di serie tv Se volete fatecelo sapere con un commento qua sotto Io vi lascio un grandissimo saluto E ci vediamo al prossimo video